Oggi partono i lavori per recuperare la residenza di via Benedetto Croce, 65 posti letto, per garantire il diritto allo studio agli studenti che verranno e che sono già iscritti nelle nostre facoltà dell'Università Chieti Pescara. È un lavoro iniziato, come dire, è un sogno che si avvera, un sogno iniziato nel 97 e che negli ultimi sei mesi ha avuto una grande accelerata perché in sei mesi, sei, sette mesi in piena estate a Natale si sono insediate le commissioni, hanno espletato la gara che si è conclusa e per cui partiranno i lavori proprio questa mattina. I costi dell'opera e i tempi di realizzazione? Allora, i tempi di realizzazione previsti sono relativamente brevi perché pensiamo di finire il tutto a fine settembre 2016. L'Ater mette lo stabile, quindi il valore dello stabile. Ci sono però, oltre a dei fondi regionali, anche c'è un importante fondo del MIUR per cui è stata fatta, grazie al quale è stata fatta una convenzione col MIUR stesso di più di un milione di euro, un milione e quattrocento circa mila euro.